E' storto questa fotografia? E' storto? E' storto? E' storto questa fotografia? E' storto questa fotografia? La conoscenza di città dei Leonardo, che ha in quel periodo, parlo degli anni 70, erano più conosciuti per le inizie, anche loro furono tra le volte, non dal fascino, ma dal magnetismo creativo di questa città. Perché di questo noi dobbiamo parlare un attimo questa sera. ...in campo internazionale, perché metterci insieme e nel avvenimento, come me e testimone Alfonso Bondrandolfi, che è qui, Giuseppe Mitterotolo.